Ciao a tutti, oggi ho avuto un barlume e ho deciso di realizzare un video che vi faccia vedere come poter fare un automassaggio drenante per il contorno occhi. Come vedete sono senza trucco e per realizzare il massaggio, ma vale in generale per ogni massaggio, è necessaria una sostanza veicolante, in pratica una sostanza che permetta di far scivolare le mani sul viso senza tirare troppo i tessuti. Ovviamente se è un prodotto specifico per il contorno occhi tanto meglio. Io in questo caso andrò a utilizzare la Dr. Organic Snell Gel, io solitamente applico un siero, ma in questo caso un prodotto così un po' in gel, un'emulsione, è una scelta consigliata perché comunque va a assorbersi un pochino più lentamente, quindi abbiamo tutto il tempo per fare il massaggio. Vado a prelevare con le dita una piccola quantità, vado a massaggiare tra le dita e vado ad applicare sul contorno occhi. Ok, inizio a stendere il prodotto e mentre stendo procedo dall'angolo interno dell'occhio verso l'esterno, verso l'alto. In questo modo andiamo a creare un effetto tensore verso l'alto e quindi diciamo anche un massaggio un po' effetto lifting. Naturalmente è anche un massaggio molto rilassante, benché venga fatto da solo insomma. E poi continuiamo con dei piccoli pompaggi. I pompaggi sempre dall'interno verso l'esterno dell'occhio in modo che i liquidi che hanno ristagnato durante la notte vengano diciamo riassorbiti. Ripetiamo ciascun movimento per 3-4 volte. Successivamente copriamo entrambi gli occhi e facciamo dei leggeri pompaggi che coinvolgano quindi tutto l'occhio. Premiamo appena appena e rilasciamo. Premiamo e rilasciamo. Con l'indice e il medio partendo dall'angolo interno dell'occhio andiamo a delineare il contorno occhi e poi finiamo sempre verso l'alto. Facciamo questa sorta di disegno di pesciolino per capirci. e anche questo è un ottimo sistema per drenare i liquidi. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Poi andiamo a premere gli angoli interni degli occhi in modo da fare sempre questa azione di pompaggio a metà degli occhi e sul finale. Sono manualità estremamente lente e leggere proprio perché la zona del contorno occhi è una zona molto sensibile quindi ha bisogno di essere trattata con una certa accortezza. Non so se si vede mi sono rilassata. Questo tipo di massaggio lo possiamo fare anche tutte le mattine appena svegli perché in realtà appunto va a riossigenare i tessuti, va a far riassorbire i liquidi che ristagnano il contorno occhi e quindi andrà a dare un aspetto più sveglio, più sano e quindi anche più rilassato. È possibile utilizzare anche proprio una crema invece di un gel, insomma un siero, in base a quanto vogliamo dilungarci diciamo col massaggio. Come avete visto comunque con questo tipo di prodotto ho massaggiato per diversi minuti. una cosa diciamo che rimane troppo sul contorno occhi poi diciamo ci impedirà di poterci truccare subito dopo perché ovviamente queste manualità vanno fatte prima di truccarsi. Per cui se decidete, se avete i minuti contati e dovete procedere poi subito al make up, non è il caso di usare un prodotto che abbia un assorbimento molto lento. Io spero di esservi stata utile con questo video, è stato proprio così deciso last minute, ho acceso la fotocamera e ho fatto la ripresa. Spero comunque possa essere utile e vi ringrazio come sempre per la visione e ci vediamo al prossimo video qui sul canale. Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!